Come giuri la tua prova? È stata una buona prova, poi come hai detto tu non giocavo da tanto, era importante fare una prova positiva, poi è normale che un minuti nelle gambe mi mancano, è proprio quello che devo trovare nelle prossime partite, speriamo, quindi sono molto contento della mia prova a livello personale. Avete ritrovato il gol, ma non avete ritrovato la vittoria nelle ultime 5 partite, 3 punti un po' poco? Sì, per la squadra che siamo sicuramente un po' poco, oggi infatti dovevamo trovare a tutti i costi la vittoria, non è stato così, però sicuramente non ci dobbiamo buttare giù perché siamo una squadra forte e da squadra forte dobbiamo affrontare le prossime partite. Quanto sono stati duri per te questi due mesi senza trovare il campo? Non ti dico, sono stato molto tranquillo perché sapevo che poi doveva arrivare la mia occasione, infatti ringrazio la squadra che mi è stata vicino, anche lo staff, quindi non posso rimprovermi niente. Come ti trovi qui a Varese? Molto molto bene, molto molto bene, mi trovo bene sia, ripeto, con i compagni e sia in città, sto benissimo. Grazie mille.